Si combatte nella 70 categoria di peso 70 categoria di peso Grazie Marco Grazie Facciamo invitare all'anno blu per l'All-Test Drive MMA Abrusco Simone Balle Grazie E' ora lo sfidaste Adano Rosso Belumbo Studio Di Roma Entra Alessandro Pinesso Grazie 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 Colpo e lega Molto attento Andiamo avanti Più basso Più basso Metti bella testa Metti bella testa Lega bene Lega bene Lega bene Si Si Lega bene Vai 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 Porta la testa Metti lui la schede Metti lui la schede Metti lui la schede Lega 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 Metti lui Metti lui la parete Metti lui la parete Colpi e metti lui la parete Colpi e metti lui la parete Colpi e metti lui la parete Prego, prego, prego. Prego, prego, prego. 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 Prego. Prego, prego. Prego, prego. Prego, prego.